L'importanza della valutazione del rischio, che è il primo passo di una progettazione. Nella valutazione del rischio bisogna identificare sia i rischi specifici per l'azienda presso cui stai per formulare un'offerta commerciale, e non solo dell'azienda in generale, ma di ogni singolo locale produttivo, lungo tutto il processo di lavorazione. E non è detto che il presidio, il tipo di strumento che io vado ad utilizzare per il medesimo infestante, che sia un coleotro, che sia un lepidottero, sia il medesimo nei diversi ambienti. La fase di progettazione quindi richiede un dispendio di tempo, di energie e di competenze importante.